Passo la parola a lei così dopo facciamo interagire anche l'assessore, poi Peraro chiedeva la parola, anche il Movimento 5 Stelle. Come CIA abbiamo combattuto e portato avanti parecchio la sburocratizzazione che però non è mai avvenuta, anzi piuttosto di sburocratizzare ci siamo trovati più ancora ricoperti di carte. Adesso tra poco quando inizierà il nuovo PSR sarebbe una bella cosa che già questo desse un segnale forte su come viene improntata la domanda dell'azienda al PSR. Perché vi voglio fare un esempio, nel precedente funzionava così, se un'azienda deve fare un investimento doveva rivolgersi a uno studio tecnico, fare un accurato studio, fare progetto, doveva arrivare praticamente alla regione Veneto già con tutti gli incartamenti in mano. Là voleva dire già che l'azienda spendeva già un 10-15% di quello che era il plafond che aveva deciso di spendere per quell'investimento. Magari il più delle volte succedeva che per qualche cosa la regione non approvava quell'investimento, non passava, non aveva il punteggio adeguato e vuoi per una cosa o vuoi per l'altra, l'investimento andava purtroppo svanito, non si faceva più. Quell'azienda è penalizzata. Allora io dico, non è possibile fare prima un pre-bando dove l'azienda dice, cara regione, io ho idea di fare questo, 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 in questo modo. La regione, un passaggio veloce, ti sa dire, sì, ok, il tuo investimento è fattibile, lo possiamo approvare. Ok, da lì l'agricoltore e l'imprenditore parte e fa una serie di passaggi per arrivare poi e mettersi in regola con quello che chiede la regione e nei modi, nei tempi. Questo secondo me è una cosa fondamentale, specialmente visto che, come ha detto lei prima, siamo purtroppo legati al credito. L'azienda si deve esporre per fare questo. Si deve esporre non avendo purtroppo molte volte l'appoggio da chi è dietro, cioè le banche, che ormai, diciamocelo pure, non fanno più le banche. Le banche non sono più banche. Ci sono da operare, ho sentito. Se mi ha concesso l'ultima cosa, visto che è stato toccato anche un punto sui capannoni lasciati in disuso, non sarebbe male, visto che come ci abbiamo già fatto questo passaggio per la terra, fare anche un passaggio sui capannoni, che molte volte sono in disuso, sono, i comuni sono in debito dell'IMU, di quei capannoni, potrebbero benissimo concederli anche agli agricoltori con un accordo che si può benissimo fare con le associazioni di categoria e pagare quindi l'IMU e fare un'attività agricola però su quei capannoni. Allora, fattibilità, assessore, poi peraro e poi... Flash, allora, ovviamente il carico burocratico è enorme perché mi pare che i costi sia il 4,5% mediamente è il costo dell'azienda, del reddito dell'azienda, quindi è un carico importante. Noi abbiamo affrontato più modi e l'abbiamo affrontato insieme alle associazioni di categoria. Spesso loro non si chiedono questo. Si chiedono di assumere loro all'interno dei Cintesenza Agricola l'opportunità di poter risolvere questi problemi all'interno. Lì c'è il problema del controllato e controllore, quindi si sta cercando di trovare la via giusta perché sia più rapido possibile la risposta. Il concetto, uno degli argomenti fondamentali di discussione, sta proprio in questo, bisogna sempre stare attenti. È vero che spesso, noi finanziamo circa l'85% delle aziende agricole, quelle che non vengono finanziate non hanno i requisiti. Cosa succede spesso? Spesso succede che la documentazione che deve raccogliere l'imprenditore agricolo la raccoglie da enti molto diversi, dal comune, dall'ULS, da tutti. E a volte il ritardo di un ente piuttosto che un altro, ritarda poi il deposito della domanda da parte dell'imprenditore. Fa uno sportello unico. Cosa succede però? Succede che nel momento in cui, anche se fosse ottima questo tipo di richiesta di finanziamento, di programmazione che fa l'azienda sulla sua attività, dovesse arrivare un minimo in ritardo perché manca una foglia o due fogli, se noi dovessimo accettarla, il primo che non riceve il finanziamento fa ricorso. No, non se ne viene fuori. E quindi si apre il mondo dei ricorsi. E quindi c'è la necessità, e sta lavorando anche il governo su questo tipo di attività, è quello di fare il fascicolo aziendale unico, di inserire all'interno del fascicolo aziendale tutte le informazioni che anche altri enti raccolgono sui controlli, per cui chi entra, il professionista che entra in un fascicolo di un'azienda, trova tutto quello che serve, che non serve, oppure il registro unico dei controlli. Quindi all'interno di un'azienda che magari subisce tre, quattro controlli, anche da tre enti diversi, che rispondono autonomamente a se stessi e non all'agricoltura, però magari fanno lo stesso controllo. E quindi c'è un'azienda che subisce da tre enti diversi lo stesso controllo, i tre enti non si parlano. Ma non è possibile un coordinamento? E quando tu cominci a chiedere, abbiamo chiesto a livello governativo, però stiamo facendo insieme al governo, e anche a livello regionale, di poter fare il registro unico dei controlli, ci sono alcuni enti che ti dicono volentieri, c'è qualcuno che ti dice invece, no questo è un affare mio, tu non senti niente di agricoltura, i controlli li faccio io, perché io sono un ente che non c'entra nulla con l'agricoltura, e ho l'obbligo, il dovere e il diritto di poter fare i controlli a prescindere dal coordinamento. Per giustificare la propria esistenza? No, no, sono anche enti come i NAS, non è che sono gli ultimi arrivati, però riuscire a spingere tutti con calma e far comprendere che la necessità della competitività dell'azienda, quindi anche della capacità di stare nel mercato, quindi anche di creare reddito, passa anche attraverso la semplificazione dei controlli, quindi è un concetto che per chi è nell'ambiente agricolo è semplice da comprendere, per chi è fuori dall'ambiente agricolo ma semplicemente è atto a controllare qualsiasi tipo di attività amministrativa che in qualche modo possa avere dei dubbi, crea disagi. Basterebbe dire ti induco a non fare errori, quindi i controlli preventivi servono ad evitare che l'azienda faccia. Ma c'è sempre la presunzione di popolari. Siete presente che è un'altra cosa, ovviamente tutto è e sarà migliorabile, spero che chiunque vada alla prossima legislatura sia consiglieri, opposizione, maggioranza, possa migliorare qualsiasi cosa. Io mi aspettavo che la comunità europea su questo piano suburburale desse delle semplificazioni burocratiche importanti, invece le ha completamente moltiplicate. Ah, fantastico. Le ha moltiplicate. Perché ci sono tutte queste norme all'interno dei bandi regionali? Perché sono risorse comunitarie e le risorse comunitarie prevedono indirizzi molto molto precisi. Quindi anche l'inaccessibilità, la difficoltà. Quindi tu devi rispettare, devi semplificare il più possibile i bandi perché siano più comprensibili, perché siano più semplici, perché in qualche modo possano… Diciamo che provano ad evitare di finanziare birrerie private. Ecco, questa forse è l'obiettivo dell'Europa. Perché dicono gli italiani sono furboni. Ma secondo me innanzitutto la burocrazia tende a alimentare se stessa, quindi è inevitabile che ci sia la burocrazia perché ci sono persone che vivono facendo la funzione burocratica. Prima è stata detta una cosa che secondo me non è corretta e quindi cerchiamo di far capire bene i tre spettatori. È stato detto che l'agricoltura deve garantire la sostenibilità ambientale. L'agricoltura al pari degli altri settori produttivi deve garantire la sostenibilità ambientale. Questo diciamolo bene perché nessuno va a aiutare l'agricoltore a mantenere l'ambiente, a coltivare, a fare l'agricoltore. Ecco che dire che solo l'agricoltura deve mantenere l'integrità, la bellezza del paesaggio è un grandissimo errore. E sarebbe fare male alla categoria degli agricoltori. Anche il settore produttivo, anche il settore dell'industria, anche il settore dell'artigianato deve garantire la sostenibilità ambientale con le emissioni, con i consumi, con l'efficienza energetica delle proprie abitazioni. Perché, ripeto, nessuno va a aiutare l'agricoltore quando è ora di lavorare la terra. Però tutti vogliono l'ambiente pulito e l'ambiente integro. Quindi su questo è meglio che ce lo diciamo subito. Non solo l'agricoltura, tutti i settori devono garantire una sostenibilità ambientale. La seconda questione. Abbiamo parlato di integrazione al reddito di multifunzionalità. Ebbene, tutti i tentativi fatti dall'agricoltore di mettere in piedi delle attività per integrare il reddito, e mi riferisco proprio alle energie rinnovabili, generano e scatenano la protesta del territorio. Ma nessuno va a aiutare l'agricoltore a coltivare i propri terreni e a fare le proprie produzioni quando deve fare l'agricoltore. Ora, possiamo discutere se è opportuno fare un impianto di energie rinnovabili ogni 100 metri o ogni azienda agricola. Ma noi non possiamo vietare delle formule previste dai piani di sviluppo rurale che dicono diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agricola. E se la produzione di energia da fonte rinnovabile è una delle misure per integrare il reddito, noi non possiamo accanirci e scatenarci contro gli agricoltori che vogliono attivare formule di integrazione del reddito attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile. Che sarebbe il fotovoltaico? No, no, biomasse e biogas. Ogni comune... Ti richiedo sempre di tradurre perché non è... Ti chiedo anche un po' di campi di fotovoltaico, poi non so cosa mangeremo domani. Mi riferivo in particolare al biogas e biomasse. Ogni agricoltore che tenta di attivare questa attività, il giorno dopo vede la nascita di un comitato contro questa attività. Allora, se da una parte vogliamo favorire il paesaggio, l'agricoltore, eccetera, eccetera, dall'altra parte ci scateniamo contro l'agricoltore e vorrei anche sapere l'opinione dell'associazione quando cerca di attivare queste formule di integrazione del reddito. Presidente, chi da lei oppure chi può rispondere? Dopo le do la parola anche a lui. No, condivido le osservazioni... Se voi dovete intervenire, usate la mano, vi do la parola, avete anche il microfono quindi... Apprezzo molto il modo e l'interpretazione che ha voluto trasmettere ai telespettatori. Io collegavo il mio pensiero pensando che oggi il mercato, sia nazionale che estero, chiede cibo biologico e quant'altro, però dobbiamo, con la cittadinanza e con il sociale, dobbiamo trasmettere una cultura diversa, perché secondo me è inutile che pretendiamo il biologico, però per fare biologico non servono concimi chimici, servono cose naturali, però il vicino di casa dice, però il liquame, il letame, non mettermelo vicino a casa mia, però quando magari va a fare la spesa la va a fare da quello che vende il biologico. Allora anche un fattore di cultura e di educazione, quindi in tutti i passaggi che noi dobbiamo fare, per quanto riguarda la sburocratizzazione, quello è un tema che come Cia l'abbiamo in mano ancora dal 2005-2006, lo ricordo benissimo, la forbice e la sottoscrizione a firme, però per quanto riguarda il rapportarci con il sociale, dobbiamo trasmettere una cultura e quindi un'educazione, trasmetterla oggi vuol dire averne i frutti fra una generazione, cioè non possiamo pretendere che uno che ha già vissuto nell'era tecnologica e oggi è diventato magari multimediale, pretendere che capisca queste cose, lo dobbiamo prendere per mano, però far capire quali sono i concetti veri per un'agricoltura sostenibile, come ha detto Stefano, che capiscano di cosa stiamo parlando e quindi anche loro devono usare un modo di rapportarsi con il mondo agricolo che sia in equilibrio e che quindi abbia una convergenza individuata insieme. Assolutamente, sì, andiamo in pubblicità così abbiamo più tempo, le faccio fare discorso e poi dopo rispondo anche chiuso. Pubblicità a pochi secondi.